Cristo risorto, buongiorno fratelli e sorelle, prepariamoci alla parola di Dio che anche oggi scaldirà il nostro cuore. Davvero con zelo, con entusiasmo, vi incoraggio ad aprire il vostro cuore e ad ascoltare quello che oggi la liturgia ci propone dal Vangelo secondo Matteo capitolo 8 dal versetto 5. Entrato in Cafarnao gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva Signore il mio servo è in casa, ha letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose Signore io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anche io un subalterno ho dei soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va e a un altro vieni ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Ascoltandolo Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano in verità io vi dico in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Amen. Tanto prendiamo questa prima parte. Gesù abbiamo visto ieri l'episodio del lebroso che si è prostrato dinnanzi a Gesù, l'ha riconosciuto Signore, le ha detto Signore se vuoi puoi guarirmi e Gesù ha detto lo voglio, sii risanato. E oggi abbiamo un altro atteggiamento di fede di questo centurione. A Cafarno avviene quindi davanti al lago di Tiberiade. Centurione quindi romano, una persona non di fede giudaica ma una persona giusta, una persona che ha un problema molto concreto di un suo servo che a casa ha letto paralizzato e soffre. quindi una persona retta che amava i suoi soldati, coloro che lo servivano, coloro che lo aiutavano, i suoi collaboratori. E non si sa come mai ma questo centurione, si sa che i romani avevano tante divinità, erano politeisti, ma questo centurione va da Gesù. È toccato da questa figura, da questa persona, dal sentire parlare di questo Yeshua che guariva, che ciò che diceva si concretizzava, che il suo modo di parlare era diverso dagli altri. E allora lo scongiura, le dice ti prego, oh mio servo che è paralizzato. E Gesù immediatamente, senza rifiutarlo, chiede lui nulla e dice io verrò e lo guarirò. Vedete sempre in Gesù l'aspetto misericordioso, di benevolenza del Padre, che ci ama, che ci vuole guarire, che quando noi soffriamo vuole intervenire subito, non ci vuole abbandonare, lasciare dove siamo. Ecco che il centurione risponde con questa celeberrima frase che ogni Eucaristiano ripetiamo. Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di solo una parola e il mio servo sarà guarito. Amen. E Gesù ha detto in Israele non ho trovato una fede così grande. Ecco perché dice questo Gesù, di questo centurione? Perché pur non avendo avuto fede in Dio, nel Dio di Israele, ma ha avuto fiducia in Gesù. Il centurione ha voluto fidarsi di questo uomo Gesù di Nazareth. Ha voluto affidarsi a lui. Ha voluto avere fiducia in quello che lui proponeva nel regno di Dio. E ha detto, Signore, tu sei troppo grande, tu sei troppo santo, noi diremmo. Non entrare a casa mia. Di una parola adesso qui e lui sarà guarito. Guardate che questa è una delle espressioni più belle della fede, della fiducia. Anche perché viene non da una persona di fede, ma da una persona, potremmo dire, laica, secolare, del mondo, retta, giusta, che ha detto a Gesù, io credo che se dici solo una parola, il mio servo sarà guarito. Ecco, questa è la buona notizia, fratelli e sorelle. Quante volte noi chiediamo la fede a Dio, Signore, o diciamo e brontoliamo, non ho fede, non ho grande fede, non riesco ad avere quella fiducia come le hanno gli altri, come ce l'hai tu, come eccetera, eccetera. Ma il centurione ci dimostra che è un atto che parte dal cuore, è un atto che parte da te. È quell'atto di fede, potremmo dire, come quando bevi dell'acqua, mangi quello che ti hai messo davanti a tavola e non dubiti che c'è del veleno dentro. Hai fiducia che è un'acqua buona, è un buon cibo, chi te l'ha preparato, chi ti dà da bere. La macchina, quando tu guidi non perde le ruote, quindi ti ritrovi schiantato da qualche parte, ma è fiducia che la macchina va. Ecco, quella stessa fiducia, questo fidarsi di Dio dicendo è provvidente. E allora oggi cerchiamo di fare anche noi questo, di avere questo atteggiamento. Gesù gli dice va e avvenga per te come hai creduto. E in quegli istanti il suo servo fu guarito. Ecco, non siamo chiamati ad essere dei campioni di fede, fratelli e sorelle, siamo chiamati ad avere fiducia, a fidarci di Dio. Siamo chiamati a donargli i pesi, perché guardate che non è difficile. Quante volte noi vogliamo tenerci i pesi e pensiamo che va bene, non li do a uno o un altro, lo devo portare io. Ma Gesù dice dammi i tuoi pesi. Questo vuol dire avere fiducia, dammi il tuo peso. Dammi la tua situazione che non risolvi. Dammi le tue angosce, le tue preoccupazioni, le tue sofferenze. Dammele perché io interverrò. Dammi la tua malattia perché io voglio intervenire nel tuo corpo. Per questo, fratelli e sorelle, chiediamo al Signore questo atteggiamento, un atteggiamento di fiducia, di dire Signore basta niente e io guarisco. Basta da parte tua un piccolo gesto. Io ti vedrò oggi nella mia giornata. E allora le diciamo insieme, vieni oh Signore Gesù, io ti attendo in questo giorno nella mia vita per sperimentare di nuovo la tua misericordia, il tuo amore, la tua mano che è forte, che è potente. Signore, riconosco di non avere abbastanza fede quotidianamente in tutte le situazioni e spesso dubito o perplessità, ma ti chiedo di intervenire nella mia vita e donarmi che i miei occhi oggi ti vedano, ti sperimentino e vedano che tu sei intervenuto in tutte quelle situazioni che ti voglio presentare in questo momento. E grazie per la tua fedeltà, tu sei un Dio fedele, un Dio grande, un Dio onnipotente, sorprendimi anche oggi. E ti chiedo, Spirito Santo, di mettere nel mio cuore la fiducia in Dio Padre, la fiducia in te, Spirito Santo, che sei la mia forza, che sei la mia gioia, che sei la mia speranza. Amen. Fratelli e sorelle, viviamo nella speranza che chi ha Dio non manca di nulla e nulla manca a coloro che lo temono. Il Signore è il tuo pastore, non manchi di nulla e anche se andrai in una valle oscura non temerai alcun male perché Dio è con te. Amen. Allora con gioia andiamo avanti e il Signore ci sostiene e ci sorprende. Buona giornata, un caro saluto da parte mia, dei fratelli e sorelle della coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella, qui a Strona. Ciao! E trasformami, guidami, plasmami, la tua mano è su di me. guidami, plasmami, la tua mano è su di me. Vieni, oh Spirito, apri i miei occhi e vedi il mio cuore. Vieni, oh Spirito, riempi ogni cosa del tuo amore. Che io possa vedere come vedi tu. Che io possa amare come ami tu.